Che emotivamente sei colpita da quello che è successo? Beh, come cittadino sono molto colpita da queste vicende, come da tutte queste vicende che vedono coinvolte donne, in questo caso anche un uomo giovane, i nostri giovani, i nostri ragazzi, il nostro futuro, le nostre donne soggette di violenza, certo che mi colpiscono, come colpisce il collega, come tutti noi cerchiamo, come colpisce, come vengono colpiti i carabinieri emotivamente, tutti noi. C'è stato di fronte a questo caso realmente tutto l'ufficio della procura, compreso il procuratore che è stato informato di passo sulle indagini, era stato coinvolto in questa vicenda. Segno questo anche della ferratezza, della violenza, insomma, gratuita probabilmente. No, segno dell'impegno che la procura ci mette per evitare innanzitutto tragedie e poi una volta, purtroppo quando si compiano, per assicurare i colpevoli alla giustizia.